I gruppi di ballerini che arriveranno sono il gruppo del maestro Giampiero Cicognani con il suo gruppo Fantasia di Danze, Tania e il suo gruppo Noi di Romagna Italia Balla, Paolo Montanari e il suo gruppo Il Gabbiano, Giorgio Barogno e nel suo gruppo I Classici Marchigiani, Bruno Malpassi e il suo gruppo Ballerini Romagnoli alla Casa Dei e balleranno tutti insieme, Ivano Pollini e il suo gruppo Stelli di Romagna, Ezio Casadei e il gruppo I Ragazzi dell'Issio 70, insieme loro Luciano Monti e gli Sciuccareini del gruppo Santa Lucia di Faenza. Grazie a tutti! Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare Bene, grossissimo applauso tutti insieme! Bell'applauso per questi bellissimi colori soprattutto e questi bellissimi abiti! Adesso, senti Renzi, vogliamo vedervi veramente all'opera? Vogliamo vedervi lavorare, davvero eh? Allora, prendete posizione perché adesso come primo brano Primo brano c'è la mazzurca Però non dico bene? Certo Tutti i brani verranno eseguiti in cinque parti Ed obbligo spiegare ai ballerini quante parti ci sono ogni ballo Loro poi sanno Titolo della mazzurca Titolo della mazzurca Mascotte Del maestro secondo Casadei appunto Mascotte Chiediamo Al maestro Malpassi se tutto è a posto Possiamo andare Misto di gruppi di ballerini In una mazzurca dal titolo Mascotte Chiede Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tante generazioni anche negli abiti dei ballerini, per esempio ci sono ballerini col tutù, tutti in colori proprio freschi. Per arrivare ai ballerini di Ravenna, che sono quelli della Cadelliscio, in costume tradizionale romagnolo. No, ma io ho già capito dove guardi te. Allora andiamo avanti col programma. Ho capito dove stai guardando. Va bene. Adesso passiamo a un waltzer invece. Esatto. Passiamo a un waltzer, il titolo del brano che ascolteremo e che verrà inseguito da questi otto gruppi, che in totale sono 76 coppie. Il titolo è Villaggio, waltzer. Sempre cinque parti. Allora andiamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. E adesso per concludere questa esibizione di questo misto di ballerini è il momento di farli saltare. Scalpitio con una bella polca di quelle scatenate. Possiamo andare? Subito? Li facciamo ballare subito? O li facciamo prendere per un attimo respiro? No, no, ma loro non si fermano mai, ballerebbero per ore. Allora andiamo con la polca, come diceva Renzo, titolo del brano Giulia GT Junior. Cinque parti! Così si voda! 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 e la progetto! Così si voda! Così si voda! bravi veramente proprio un bello spettacolo bene io voglio ricordarvi ancora prima di salutarvi con un altro applauso Giampiero Cicognani e il suo gruppo Fantasia di Danze Tania e il gruppo Noi di Romagna Italia Balla Paolo Montanari e il gruppo Il Gabbiano, Giorgio Baronio e il gruppo I Classici Marchigiani Bruno Malpassi e il gruppo Ballerini Romagnoli alla Casa dei Ivano Pollini e il gruppo Steli di Romagna, Ezio Casadei e i ragazzi della Lissio 70 Salutarli insieme Con un grande grande applauso naturalmente con la grazia da parte di tutti noi per questa presenza, tutti insieme per Secondo Casadei Grazie a tutti i nostri spettacoli Grazie a tutti i nostri spettacoli